Oggi qui a Roma, al Ministero, un'occasione molto importante per il Carnevale di Fano, un grande riconoscimento che finalmente premia il lavoro fatto in questi anni. Un francobollo dedicato al nostro Carnevale e che circolerà in Italia, quindi una grande promozione e un valore simbolico molto importante. L'emissione di sei nuovi francobolli dedicati alla storia del Carnevale. I sei Carnevali più antichi e più importanti del nostro Paese. Fano è tra questi, un grande riconoscimento, oltre ad essere il Carnevale più antico al mondo, ma è anche un riconoscimento di valore e di prestigio. E quindi è un motivo di orgoglio, ma è anche un grande riconoscimento a tutte quelle maestranze, agli artisti, a tutti coloro che rendono grande il nostro Carnevale e rendono grande anche l'orgoglio del nostro Paese. È un momento importante di Fano in considerazione del fatto che il Ministero ha dedicato questo francobollo a sei Carnevali storici italiani, tra l'altro importante perché arriva quando stiamo realizzando un percorso insieme a altre tanti Carnevale storici, un percorso unesco. L'auspicio è che si arrivi insieme a questa rete a ottenere dei risultati anche insieme.